Potresti dirmi di sicuro, se puoi fare quello che ho chiesto? Vediamo, forse te lo posso dire. Ecco, in poche parole, vorrei che Dio facesse uno scambio. Io potrei stare con lui e mio fratello potrebbe tornare con papà. Papà vorrebbe avere un figlio maschio. Questo è tutto. È una richiesta piuttosto grossa. Ma che può fare tutto? Ci vorrà del tempo, però lo può certo fare. Se pensa che sia la cosa migliore. Oh, lo è. Gli ho spiegato, ti ho avuto dei pensieri cattivi. Credo che abbia preso mio fratello. Soltanto per causa mia. Charles non aveva cattivi pensieri. Era troppo piccolo. Adesso, però, non pensare di essere diversa dal resto della gente. Sai, tutti hanno pensieri cattivi qualche volta. Non mia madre e mio padre. Forse qualcuno molto piccolo. Ma la cosa importante è che tutto torni a posto.